Con il campionato già deciso, con la Juventus proiettata verso i suoi record, compreso quello dei 100 punti in classifica, che sarebbe davvero un risultato straordinario, il campionato si ferma a riflettere sulla crisi del Milan, una crisi profonda che sta cambiando un po' quella che è la geografia interna del potere rosso-nero. È intervenuto anche il presidente Silvio Berlusconi che ha attaccato duramente la gestione attuale, dunque anche Adriano Gagliani, dicendo che i soldi sono stati spesi male e per giocatori non all'altezza. Un giudizio molto duro che mette alle corde il principale dirigente del Milan e in qualche modo riabilita Zedorf che di fatto è stato confermato anche per l'anno prossimo, almeno sulla carta. È chiaro che di qui a fine stagione però Clarence dovrà dimostrare di essere all'altezza di questa panchina con un comportamento ben diverso e con un Milan soprattutto che deve cominciare a rendere di più, al di là dello schematismo tattico, quel 4-2-3-1 a cui Zedorf si è molto affezionato, uno schema importante adottato in campionato anche da Napoli ma che sembra sovradimensionato per le qualità e le risorse del Milan di oggi. In tutto questo si inserisce anche un grande punto interrogativo legato al futuro di Mario Balotelli, abbiamo già parlato abbondantemente di lui dicendo quante difficoltà abbia creato il suo atteggiamento e la sua discontinuità al Milan ma tutti continuano a dire che questo è un giocatore di avvenire importante, è un giocatore che da solo può reggere le sorti di un attacco intero. Dunque sarà molto importante vedere come il Milan finirà questa stagione anche per capire se nel progetto di domani Balotelli sarà ancora al centro dei giochi oppure nascerà davvero un Milan su basi nuove a cominciare proprio dalla società dove la figura di Adriano Gagliani è inevitabilmente destinata a sparire.